In casa Napoli non ci sono particolari novità. Venerdì inizierà la seconda parte del ritiro della squadra di Garcia, in quel di Casteldisangro, con i tifosi pronti ad accogliere e seguire gli allenamenti degli Azzurri. Un calciomercato a rilento, quello italiano, con il solo Milan operativo nel piazzare alcuni colpi dopo la cessione di Tonali. In Napoli, invece, tentenne le dinamiche praticamente sono le stesse settimane, annoiando anche in tifosi colti da un susseguirsi di informazioni irrilevanti, spesso non corrispondenti nemmeno al vero. De Laurentiis lavora su più fronti, con molta calma e pazienza. Da un lato c'è da lavorare sul rinnovo di Osimen, la vicenda più spinosa, dall'altro si lavora sui difensori per sostituire Kim. Intanto però i giorni passano e Garcia lavora con gli stessi uomini in attesa di nuovi volti. La trattativa con l'attaccante nigeriano prosegue, ci sono da smussare alcuni piccoli aspetti contrattuali, tra cui anche quello relativo ai diritti d'immagine, ma Osimen quasi sicuramente rimarrà al Napoli, se non ci saranno colpi di scena internazionali. In effetti la vicenda Mbappé tiene tutti col fiato sospesa, perché un'eventuale partenza del calciatore Paris Saint-Germain potrebbe scatenare una cascata di trattative riguardanti gli attaccanti, stravolgendo la geografia di alcuni club. Sul fronte entrata il Napoli deve trovare il sostituto di Kim, il tempo scorre, le richieste di alcune squadre sembrano alte per ADL, che vorrebbe spendere poco o il giusto, dipende dai punti di vista. In prima fila c'è Max Killman, 26 anni, del Wolverhampton, inglese da considerare ora comunitario dopo la svolta nella trattativa della FGC. Un dettaglio che potrebbe favorire la trattativa, anche se l'ostacolo principale resta quello economico. De Laurentiis è fermo all'offerta di 35 milioni, convinto che alla fine il club di Premier lo prenderà in considerazione, avendo problemi economici rimarcati dal tecnico Lopetegui. Abbiamo perso molti giocatori e la sensazione è che il club voglia venderne altri. Uno degli indiziati potrebbe essere proprio Killman, che sarebbe felice di giocare la Champions con il Napoli.